Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Dopo varie peripezie che mi hanno portato al di là e al di qua del mondo, e al di là e al di qua della regione, sono tornata con questo video. Sono stata in palestra, quindi ho ancora la tuta, ma prima di tornare a casa ho fatto un po' di spesa, un po' di spesa all'Eurospin, che voglio mostrarvi, voglio farvi vedere cosa ho comprato. Ma prima sigla! Allora, cominciamo con i detersivi, candeggina delicata, velox, l'ho già provata, mi sono provata bene, ottima, 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 sport, questo non l'ho mai provato, Vi saprò dire pulito i gene bicarbonato, lava, pavimenti, Dexal, mai provato, lo voglio provare. Poi ancora detersivo, questo l'ho già provato, che è fantasia di lavanda, è un ammorbidente, sempre della Dexal, e devo dire che è buono. Detergente piatti Dexal, al limone, ottimo. Poi, con il gelato, dolcilando, io non li mangio, però li mangiano la mia famiglia, dicono che sono buoni. Poi, ancora, dei carciofili, dei carciofili da fare in padella, il parmigiano dog grattugiato, il vino, il vino per cucinare, perché se prendo quello buono me lo bevono. Allora, prendo questo, i cracker integrali, per me, il vino, questo è da bere, questo, poi ho preso le fragole per fare la macedonia, le fragole. Ho preso, ho preso, ho preso la pasta sfoglia, perché devo fare dei triangoli con l'ananas. Poi, ancora, la pasta per la pizza, perché non c'ho voglia di impastare, quindi adesso vado di pasta sfoglia. Il pane, ho preso il latte, per me. Ho preso prosciutto, pancetta, sto disfando la borsa, poi il tutto fare, compatta, asciugoni, mozzarella di bufala, carote e ananas. L'ananas, perché devo farvi una ricetta e poi ve la farò vedere. Praticamente sono dei quadrotti dolci, perché è un dolce, da fare con l'ananas. Andremo a vedere poi la ricetta, quando la farò, ma pubblico. Ancora, ancora, arrosto di tacchino, salame, arance, sempre per la macedonia, non vi sto a dire i prezzi, poi vi dico il prezzo totale. Poi, ho preso insalata, asparagi, che vi voglio fare con le uova, uova e asparagi. Le mele, no, le banane, le banane, poi le mele. Ancora, eccola, la carne macinata che ne ho prese due, perché faccio il rotolo di carne, il polpettone. Il polpettone, guardate la scheda qua sopra e vedete come si fa. Vi assicuro che è buonissimo, provate a farlo. Ancora prosciutto, ancora salame, ancora prosciutto. Aceto di vino bianco, perché lo uso a volte, mi serve nella maionese o quando cucino, un cucchiaino. E lo uso anche per le pulizie di casa, insieme all'acqua. Infatti, come si fa con l'aceto? Guardate la scheda qua sopra. Nescafè, Nescafè non è Nescafè, ma è di Erez, beccalpignato. Al mattino non c'è voglia di stare a mettere la moca sul fuoco, non c'è voglia di prepararla. Mi dà fastidio toccare l'acqua con le mani. Ecco, potrei prepararla la sera. Non è vero, sono pigra, ho preso questo. Faccio prima. Intanto lo bevo solo io. Poi, l'alluminio, che costa davvero poco. Poi, il prosciutto, anche i betti e i tortellini, perché voglio fare la panna, prosciutto e panna, con i tortellini. La scheda qua sopra per come si fanno. Ancora, i limoni e ancora formaggio a fette e damer, per fare i toast. Allora, tutto questo, lo scontrino, eccolo qua. Tutta questa roba l'ho pagata, si vede, 59,55. Mi sa che non si vede così, lo vedete all'incontrario. Però, 59 e 55. Tutta questa spesa è tantissima. Ho pagato veramente, veramente poco. Allora, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando, supportatevi. Intanto vi do un bacio, un abbraccio e ciao, alla prossima. Ciao dalla vostra Laura. Ciao, ciao!